ciao a tutti e ciao a tutte benvenuti o bentornati sul mio canale oggi nuovo svuota la spesa perché dopo un po di mesi sono riuscita a fare finalmente un nuovo ordine con consegna a casa al tigros vi dico subito che anche questa volta sono riuscita a sfruttare la consegna gratuita perché ho fatto un ordine superiore agli 80 euro quindi mi hanno fatto la consegna a casa gratuita e in totale ho speso 101 euro e 89 centesimi con 50 centesimi anche di sacchetti biodegradabili che tra l'altro forse l'altra volta non ve li avevo fatti vedere ora ve li mostro sono veramente giganti guardate sono enormi questi sacchetti e quindi comunque anche super comodi vi faccio vedere subito il fresco così andiamo a metterlo via allora ho preso un po di cose anche e fresche tipo insalate perché voglio portarmela lavoro per cambiare un po delle solite zuppe invernali è vero che inverno però allora ho preso una busta da 125 grammi di insalata misticanza e l'ho pagata calcolate sono sempre tutte intorno a un euro adesso vi dico di preciso sì misticanza un euro marchio primia che il loro marchio poi insalata a gusto e fantasia da 250 grammi pagata un euro anche questa e poi insalata l'acchidino anche questa 125 grammi un euro ho preso un po di insalate miste perché alcune ne mangia anche mio marito quindi poi c'era in 1 più 1 il parma cotto da 100 grammi la vaschetta da 100 grammi a 3 euro e 49 e quindi ne ho prese mi sembra 6 confezioni poi allora a 2 euro e 49 se non ricordo male no 2 ore 79 scusate ho preso le lasagne al pesto viva la mamma quelle già pronte queste qui da qua c'è al microonde oppure anche al forno 4 minuti al microonde o 18 minuti al forno e le sempre a 2,79 in offerta anche queste da 4,69 a 2,79 quindi ottimo i cannelloni ricotta e spinaci sempre viva la mamma da portare in ufficio poi ho preso la ricotta questa qua perché la mia amica mi ha letto che è veramente buona e quindi ho voluto provare questa 250 grammi della valcolatte l'ho pagata 1 euro e 29 poi siccome avevo preso le pizze in vi ho potuto vedere in un altro suota la spesa che avevo preso le pizze quelle in scatola da fare all'evenienza ho preso anche la mozzarella e ho preso questa qui il panetto da 400 grammi e l'ho pagato 1 euro e 99 appunto 400 grammi sempre marchio primia poi ho preso questo salame piccante da affettare mettere appunto sulla pizza e questo l'ho pagato sono 160 grammi e della casa modena l'ho pagato 3 euro e 19 questo qua così altra super vista ho preso due confezioni di piada sfogliata fresca sempre primia questa qui che se non sbaglio l'avevo provata ed era buona e l'ho pagata 2 euro e 98 che sono 5 pezzi eh 5 chiarine in ogni busta il prezzo è appunto per 2,98 per due confezioni la mozzarella Santa Lucia passava da 4,17 e ne ho prese 3 pezzi a 3,45 euro quindi era anche questa in offerta diciamo che io vi dico il prezzo totale per i pezzi che ho preso perché non ho il prezzo al singolo pezzo eh quindi 3 confezioni di mozzarella poi ho preso spec a cubetti perché avevo voglia di fare la pasta panna spec per cambiare un po' la sera e allora ho preso questi qua 1 euro 2,79 euro e sono le confezioni da due mentre la pancetta fumicata che a Samuele piace un sacco la carbonara quindi per fargli la carbonara sempre da due ne ho prese due confezioni per un totale di 3,98 euro poi ricottine piccoline quelle da 100 0,92 due ricottine poi 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 stracchino primia 100 grammi 3 pezzi totale 2 euro e 3 sì 2 euro e 13 3 pezzi poi ho preso la robiola 2 pezzi 1,98 euro in totale mettiamo un secondo eccolo qua poi vediamo andiamo avanti ho preso i teneroni una confezione di teneroni casa modena con mozzarella 2 euro e 45 due confezioni di formaggio grattugiato a 1 euro e 98 2 poi un questa 270 grammi questo galbanino l'ho pagato 2 euro e 15 e appunto è quello da 400 grammi poi fontal fontina questa qui 1 euro e 79 ed è da 250 grammi poi ho preso i girstel allora 4 confezioni 1 euro e 60 in totale questi qua di pollettacchino poi ho preso mirtilli la vaschetta da 125 grammi a 1 euro e 79 e direi che adesso vado inizio a mettere via queste cose poi vi faccio vedere il resto poi ho preso due vassoi di banane e allora in totale anche qui due vassoi 2 euro e 98 mango due pezzi di mango 2 euro 1 euro l'uno poi un vassoio di carote da 1 chilo 1 euro che volevo fare l'arrosto poi cos'altro limoni ho preso i limoni una rete da mezzo chilo 1 euro poi volendo appunto fare l'arrosto ho preso la lonza e adesso vi dico allora praticamente era in offerta 1 chilo e 50 grammi l'ho pagato 5 euro e 78 e in più quindi me l'ha messo nella busta adesso ve lo faccio vedere voilà così e poi in più ho preso anche la salsiccia 600 grammi 4 euro e 50 questa qua e mi sa che questa la vado a mettere in padella tra poco poi continuiamo allora 6 uova 1 euro e 39 sempre in offerta fusi di pollo ho preso questo vassoio da sono in totale quasi 1 chilo e 3 1 chilo 2,99 5 euro e 0,7 e sono 1,2,3,4,5 10 fusi di pollo e anche questi da fare una sera e poi a 5,32 euro ho preso questo vassoio di petti di pollo perché vogliono fare gli involtini 674 grammi già tagliato a fette e poi dovrei aver quasi finito ho preso arance un chilo e mezzo un chilo e mezzo di arance a 1,94 euro che erano in offerta poi i cachi mi sono presa i cachi persimon un chilo 2,50 a 2,49 euro a me piacciono tantissimo così mele anche questi se non ricordo male erano in offerta un chilo di mele un euro poi 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 come vedete c'è veramente tanta roba pane 1,99 euro questa pagnotta già affettata poi latte ho preso questo qui che veniva allora 4 pezzi li ho pagati 3,68 euro ed è parzialmente scremato quello lunga conservazione quindi 4 bottiglietti sono 4 confezioni di latte poi avevo terminato la panna da cucina quindi ho preso la panna questa qui panna chef e l'ho pagata anche questa in offerta 3 pezzi li ho pagati 2,97 euro anziché 4,47 per far colazione la mattina mi sono presa questa confettura extra di fragole e l'ho pagata 1,09 euro e sono 360 grammi ok dovrei aver terminato adesso faccio giusto un rapido controllo se vi ho detto tutto però sì penso proprio di sì sì allora vi ho detto tutto ho fatto appunto la spesa come vedete sono un bel po' di articoli perché come vedete sono veramente un sacco di articoli praticamente in totale appunto ho speso 102,39 perché ci sono 50 centesimi di sacchetti e allora come ripeto ho preso veramente tante cose ho preso anche la carne ho preso la lonza ho preso il petto di pollo ho preso i fusi di pollo ho preso la salsiccia ho preso anche un po' di carne così poi la carne bovina andiamo a prenderla direttamente quando la vogliamo cuocere però anche i petti di pollo così li posso congelare ho preso frutta verdura le uova ho preso un po' di cose anche per fare le cene perché noi solitamente arrivo amore noi solitamente come ci organizziamo ci organizziamo che se a mezzogiorno ovviamente mangiamo il primo la sera cerco di fare il secondo e viceversa se a pranzo mangio il secondo la sera faccio un primo quindi ho preso la ricotta per fare magari una pasta ricotta piuttosto che appunto gli involtini il pollo ecco voglio fare la pasta una carbonara ecco la pasta patate speck cerco di fare qualcosa per cambiare un po' una piadina veloce ecco adesso tra l'altro sono le 19.35 quindi mi devo mettere subito a cucinare perché altrimenti mangiano me i miei figli e mio marito quindi come sempre quindi questa è stata tutta la mia mega spesa e come sempre io vi saluto vi mando un grossissimo abbraccio un mega mega bacio noi ci vediamo al prossimo video se il video ti è piaciuto mi raccomando mettimi un like di supporto ciao alla prossima ciao